Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Johnny Gamer ed oggi siamo in un nuovo gioco influenzato Sì perché mi sono pensato di influenza, ma comunque ecco lo stesso Allora siamo su un gioco che ho scoperto da poco, si chiama Hunger ed è diciamo più un gioco cazzeggio che una vera storia Abbassiamo un po' il volume perché, allora io direi di fare endless, una storia tipo, original, cardzone, e tarzan con un totuardo Va bene, original, monster, allora praticamente noi dobbiamo fare alla, sanna, sì, dobbiamo fare alla spiderman Oddio quanto è forte sto volume Dobbiamo scappare da questo tizio È infinito ed è, diciamo, quanto riusciamo a fare Ah ecco, dimenticavo, quando vi schiantate perdete degli arti Quando arriviamo a zero arti abbiamo perso Ecco, siamo morti, ottimo E inizia lo sclero Ragazzi, se avete sentito un po' la voce più cupa è proprio perché ho il raffreddore No, sono vivo, morite, sono vivo, sono morto Comunque ragazzi, questo diciamo che è un po' il livello infinito Mentre poi abbiamo levels, che è più una sorta di storia Io già sono arrivato al tre, ma comunque i primi due erano di tutorial, quindi neanche per farveli vedere Per chi volesse scaricare il gioco si chiama Hunger con la H davanti Non come Hunger Games, ma come Hunger, che non so come si scrive Comunque il link è in descrizione Oddio, psss, morto, no Ah, è vero, ci sono anche questi diamanti di merda Non morire, ti prego, non morire Per ogni arto che perdiamo, mi sembra che ce ne vediamo uno cento Oddio, che morte brutta Sette parto lost, meno sette mila Ah, no, milla ogni arto penso Quattro, trains I like trains I like trains Stasi Vai Stasi, io credo in te Non è vero Ma il treno ha una fisica sua, sì Madonna santa Aiuto Oddio, ma cosa cazzo Che cosa è successo Wow Passiamo tutto di botto il treno No Morto malissimo, alla fine sono morto Dai, proviamo a farlo senza Perdere parti Certo E' facile, molto facile Oddio Vai, vai tizio No Morto Maledizione Vuoi? No, il treno Ma porca miseria, ha sbattato sempre il treno Sembrano bastoncini Vai Mi sono salta tutto il treno No Sì Ottimo Down in the cave Sotto nella Nella Caverna, sì Caverna Chuck Norris No, Chuck Vediamo se è immortale come Chuck Norris Sì, incredibile Oh, Cristo santo Vai Oddio, morto, ma dov'è la mia testa? Attenzione a Chuck Chuck Norris Chuck Norris Incredibile Il piccolo Chuck Attenzione No Sì No Forse Non me lo ricordo Oddio No Ma perché muoro sempre alla fine? Muoro Pubblicità di merda No Mano del cazzo Vai No Oddio Mi sto sclerando Questo gioco ti farà rompere i coi Le ovaie Sì No Ma vai a cagare Ma porca Non ci riuscirò mai Attenzione Attenzione Il peggio acrobati E la madonna Morto malissimo Con quale Rivediamo l'arragmentatore Non ci riuscirò mai No Borgazzo Borgazzo No No Non ci riuscirò mai 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 oh mio dio ragazzi ci sono riuscito non ci posso credere mamma mia mamma wow ok proviamo a fare il prossimo che penso sarà ancora più difficile facci quello dei simpson no quella dei simpson barbara certo facciamo l'ultimo e poi basta oddio o vodudu onolulu onolulu morto no no assolutamente quanto lo odio su gioco ma perché ci gioco direte voi perché non lo so neanche oggi ragazzi volevo dirvi che appena finito perché quattro ve lo voglio spoilerare tutto l'ho finito attenzione da lei vuole farli tutti senza morire e muore quindi ragazzi io direi che l'episodio di oggi di hunger si può concludere qui spero che vi sia piaciuto iscrivetevi commentate mettete mi piace ma soprattutto scrivete quali giochi per ipad o tablet io potrei fare secondo voi e che possono piacere a tutti quindi io vi saluto un bacione da johnny gamer noi ci rivediamo a un prossimo video bella ragazzi